saline di volterra è una frazione che si trova lungo la strada che da volterra porta pomarance e cecina questo luogo è conosciuto per le sue fonti di acqua salata dette moie già dagli antichi etruschi attualmente le saline vengono sfruttate in concessione dalla locatelli saline di volterra srl costituendo un'eccellenza italiana un paese in fermento con molte attività economiche e servizi qui si trova la ferrovia con la stazione di volterra saline pomarance da cui partono bus navetta segnaliamo di visitare l'interessante palazzo dell'orologio lungo la strada per le saline grazie a tutti